Adesso sei fiera di me, Arunco, hai visto che te l'ho fatta? Questa volta ci riuscirò! Certo! Buona fortuna, dimostrami chi sei! Com'è chi sono? Sì! Rilasso le ginocchia, salto in alto e appoggio la palla! Sakuragi, hai dimenticato la palla! Devo avere le allucinazioni! Che è successo? Stai bene? Sì, 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 sto bene! Ma sei sicuro? Si può sapere che ti prende? Maledetto! Che brutto sogno!